TENIS FATTO! Selezioniamo il nostro cammino e benenze per la mamma sul suono, I Nodi Mamarini! Selezioniamo il nostro cammino che vede un ritorno da assoluto protagonista dopo un turno di gioco. La quinta di questa stagione in lotta per il Mondiale, TENIS FATTO! Il Mondiale è un trappetto quindi si proseglia nelle ultime due grandi trappe per questa sfida con questo giovane talentuoso.